Quello che oggi, a mio modo di vedere, è importante così, è che da una parte cresca la capacità di solidarietà nel condividere le difficoltà. Si è precipitati dentro una situazione di grande difficoltà. Noi vediamo come nelle nostre parrocchie, negli sportelli della Caritas, c'è veramente una richiesta che aumenta in maniera fuori controllo quasi. Quindi è la drammaticità di una situazione. Che nella misura in cui si riesce a vivere dentro un discorso solidale, si condivide, diciamo così, quel che si ha. Nello stesso tempo io ritengo che la dimensione solidale deve andare a toccare la progettualità di ciascuno e di ogni comunità e della società. Questo significa passare veramente però da un fatto di cultura, secondo me, ancora prima che di soluzioni, da quello che è l'esasperazione di un io dominante a quello che dovrebbe essere un noi. Questo tocca le istituzioni, ma tocca per esempio chi è imprenditore, chi ha risorse, chi ha capacità, chi può elaborare progetti. Se uno elabora solo in vista di se stesso è una cosa, se si fa carico di un bene comune è un altro. L'elemento più debole che tocca la nostra società è la debolezza della relazione. È la relazione che mette in discussione l'incapacità di un incontro per evitare che diventi necessariamente scontro. Diventa la relazione dentro le famiglie, l'incapacità di dialogo. Più ci sono strumenti di dialogo, meno si dialoga. Nelle comunità, nella società, nelle istituzioni. Cioè in un momento di questo tipo è tollerabile che un'istituzione gioca contro l'altra continuamente. Ci possono essere ragioni di tutti, perché poi sono di tutti e di nessuno, ma oggi cosa serve? Che cosa è prioritario? Il dialogo evidentemente. Il dialogo direi che diventa progetto, in cui si leggono le esigenze e insieme si mettono in piedi le risorse, le energie, anziché io dove sto. Continuo. Grazie a tutti.